Test di registrazione video con OnePlus 6, classica ripresa in primo piano per vedere come si comporta la regolazione del fuoco al cambio continuo di soggetto. Video che stiamo registrando dalla camera principale, una 13 megapixel con f2.2 alla risoluzione massima in full hd 30 frame al secondo. Facciamo qualche passo in modo da vedere come si comporta la stabilizzazione dell'immagine, contro luce giornata a tratti grigia quella di oggi, test di zoom messo a fuoco, zoom in zoom out come vedete molto fluido, adattamento a luci meno forti, test di fluidità e ora ci fermiamo.